Benvenuti sotto l'albero, il tradizionale appuntamento di fine anno di 105 TV. Quasi otto ore di trasmissione per riassumere attraverso i suoi protagonisti le tematiche ai fatti del 2018 e rilanciare gli impegni futuri. Sotto l'albero la storica trasmissione di fine anno di 105 TV condotta da Gaetano Bellotta e scivolata con la sua maratona di volte e di nomi, analizzando le questioni da sempre sul tappeto come l'ambiente, l'erosione costiera, il turismo con le nuove opportunità rappresentate dai distretti e i temi caldi come l'avvio della filiera della carne di cinghiale per rispondere al problema della loro proliferazione nel parco, la chiusura dei punti nascita di Sapri e Polla fermate in extremis dall'azione dei direttori sanitari dei relativi presidi e la ripresa del caso Trivellazioni nel Diano con il parere favorevole per la via concesso alla Scella. Annunciati anche in diretta il miglioramento delle condizioni del giovane di Policastro rimasto ferito in un incidente stradale nei giorni precedenti il Natale e il licenziamento di un operaio addetto allo spazzamento del comune di Sapri. Tra gli ospiti sindaci ed esponenti delle minoranze consigliari, presidenti di associazioni culturali e sociali, rappresentanti delle istituzioni ecclesiastiche e degli operatori turistici e il senatore del Movimento 5 Stelle, Francesco Castiello, per fare un quadro completo tra politica e società dell'anno trascorso e provare a far sedere tutti insieme, attorno a problematiche comuni, i protagonisti del territorio. Tra gli auguri e gli impegni rilanciati per il 2019 si sono sentite spesso le parole sviluppo, crescita, tutela dell'ambiente, anche oltre le decisioni della politica nazionale, spesso in contrasto con quest'ultimo indirizzo. La speranza è quella che aleggia sempre in questo appuntamento televisivo a cavallo tra vecchio e nuovo anno ed è quella che 105 TV vuole donare anche per il 2019. Sotto l'albero potrete seguirla in replica sabato 29 intorno a mezzanotte, domenica 30 dopo il Tg delle 14, lunedì 31 in serata dopo il Tg delle 22.30 e tutta la giornata del 1 gennaio.